Ciao amici di Italia Top Games, c'è grande, grandissimo fermento per scoprire le novità che arriveranno giovedì 21 aprile in i Football 2022 Dream Team. Perché diciamolo, ci vuole l'onestà intellettuale di dirlo, questa settimana è stata una sorta di warm up, due ventini, prendiamo mano ai comandi, capiamo come funzionano gli allenamenti, insomma è stata una settimana di prestagione, questa è la vera precision, non quella che è durata sette mesi, è stata una prestagione. Prima di cominciare il vero campionato, che ne abbiamo già parlato, comincerà giovedì 21 aprile, avrà dieci divisioni, premi, eccetera, eccetera, eccetera. E allora, andiamo a scoprire quali saranno il tipo di giocatori che avremo, le valute, come potremo avere queste valute. Allora, i giocatori saranno, come preferite voi, diciamo 4, 5 o 4 con una versione laminata della standard. Comunque, andiamo con calma. Prima di tutto ci saranno i giocatori leggendari, e queste sono le leggende di PES che in eFootball ritornano, solo che, a differenza che in PES non ci saranno, almeno per il momento, le icone, ci saranno solo le leggende. E anzi, forse possiamo considerare che ci saranno solo le icone, perché si dice che il tipo di giocatore è caratterizzato in base alla prestazione stellare di una specifica stagione. Beh, no, è più leggende, più che icone, perché l'icona era proprio legata ad una partita, così. Quindi, giocatori leggende si possono sviluppare come si possono acquistare? Con le monete eFootball, con l'accordo al buio, o con i punti football mirati, ma i punti football cambieranno e le potremo prendere cadenzate. Bisognerà vedere, appunto, casuale, quindi ci sarà lo spacchettamento anche per le leggende, mentre l'accordo al buio è un altro tipo di cosa che andremo poi a vedere. Oltre alle leggende ci saranno i giocatori trending. Ring, attenzione, il giocatore è caratterizzato in base alla sua straordinaria prestazione in una specifica partita o in una determinata settimana. Questi giocatori non si possono sviluppare, non si possono sviluppare, saranno così, li troveremo in quel modo e non si cambiano, e ci sarà un contratto mirato, anche questo lo andremo a vedere che cos'è. Poi ci saranno i giocatori in risalto, giocatore selezionato accuratamente e caratterizzato in base alle sue prestazioni durante la stagione attuale. Quindi il giocatore in evidenza, sembra da quello che scrive Konami in risalto, è un po' differente, perché alle sue prestazioni durante la stagione attuale sembra un po' più lungo nel tempo, ora non so se la traduzione sia esatta. Il trending è proprio quello che players, infatti si legge pure, players of the week, appunto. Quindi questo dovrebbe essere un po' il giocatore in evidenza, è un po' differente. Il risalto è più legato alla stagione, sembra. Si può sviluppare, si può prendere tramite monete football casuale, si può prendere con accordo al buio e con i punti football mirato. Questo bisognerà vedere quanti ce ne saranno e se ne saranno gli stessi e si possono prendere con le monete di football. Poi ci sono i giocatori standard, giocatore caratterizzato in base alle sue prestazioni durante la stagione attuale, questi li conosciamo già, si possono sviluppare, si possono prendere con le monete di football casuale, quindi anche qui ci saranno spacchettamenti per i giocatori in risalto, per i giocatori leggendari e anche per i giocatori base. O si possono prendere con i GP mirati, oppure con gli accordi al buio. La versione diversa della standard è la minata. In pratica c'è una piccola percentuale di possibilità di pescare questi giocatori che saranno già livellati al massimo, dovrebbero avere alcune specifiche anche maggiore, infatti con una competenza stile di gioco più alta del normale. E anche questi si possono prendere con le monete, sono versioni fortunate, diciamo, delle versioni base. Poi, lo sviluppo dei giocatori, le abilità dei giocatori standard di risalto e leggenda possono essere potenziate attraverso l'allenamento. I giocatori trending però vantano abilità basate sulle loro prestazioni reali durante una particolare settimana o mese. Sebbene possono essere un utile aggiunto immediato al tuo team, non avrei modo di svilupparli ulteriormente. Quindi questi giocatori sono comodi magari per un subito, per averli forti subito, ma poi non si possono sviluppare. Ed ecco una domanda pure che mi fate molto spesso. Le monete di football si possono solo acquistare? No ragazzi, c'è scritto qui, queste sono le monete che possono essere utilizzate per ingaggiare i giocatori e acquistare oggetti di gioco. Puoi trovarle nel gioco o nel negozio. Ora, ovviamente è palese, sarà normale che nel gioco ne potremo prendere molto poche e se chi le vuole prendere subito e tante deve andare nel negozio. Ma questo è così anche in Pro Evolution Soccer. Però ci viene detto che le potremo trovare nel gioco con delle cose che ancora dobbiamo scoprire e non solo con lo shop. E questa è sicuramente una buona notizia. GP, questa è una valuta all'interno del gioco, utilizzabile per ingaggiare i giocatori e allenatori, la si ottiene rispettando determinate condizioni di gioco. E poi punti football, anche questo è interessante. Questi sono punti utilizzabili per ingaggiare i giocatori e ottenere oggetti di gioco. Oltre a riceverli durante il gioco, puoi anche ottenerli attraverso campagne esterne. Quindi gli eventi che si vedono in partite autentiche e che dovremmo poter giocare senza la squadra Dream Team, ma quelle squadre reali, insomma gli eventi che abbiamo giocato per 7-8 mesi in e-football da settembre a qualche giorno fa, dovrebbero dare punti football da quello che ci viene detto. Non ci sono solo le risorse, ma ci sono anche i contratti. Accord al buio, un oggetto che ti permette di ingaggiare un giocatore casuale tra quelli dell'elenco creato su misura per tale accordo. Abbiamo visto nelle campagne Precision, c'erano le leggende, oppure c'erano i testimonial, e avevamo la possibilità di prendere un giocatore tra quelli degli accordi al buio. Contratto mirato, un oggetto che ti permette di ingaggiare un giocatore a tua scelta tra quelli dell'elenco creato su misura per tale contratto. E qui ci dovrebbero essere quei Game Pass che ricordano molto Fortnite e che stiamo in attesa di vedere se arriveranno anche il 21 aprile. Altra informazione che non avevo letto neppure io, mia colpa. Nella versione 1.0 hai a disposizione un solo schema di gioco dove potrai selezionare i giocatori e gli allenatori che desideri usare in partita. Ti forniremo altri slot in cui salvare più schemi di giochi nel prossimo aggiornamento. Nel frattempo apprezziamo molto la tua comprensione e la tua pazienza al riguardo. Ora penso che quando parla qui di prossimo aggiornamento non penso che parli di giovedì 21 aprile. Meglio, eh? Meglio. Qui aggiornamento mi sa che parla proprio di quelle patch che abbiamo detto saranno molto corpose e che stando a Renan Galvani usciranno, uscirà la prossima il 19-20 maggio. Ma Konami ancora non ha detto nulla. Bene, io spero che con tutte queste informazioni siano finalmente chiare le informazioni disponibili. Giovedì 21 aprile, io non so dirvi ancora, se troveremo tutti i tipi di giocatori disponibili, se solo i leggendari, se solo leggendari in risalto, se solo trending risalto, solo in risalto. Non lo so, non lo so, finché Konami non si sbottona, non lo so. Però questa sarà, almeno per il momento, la situazione di eFootball e dei tipi di giocatori che avremo in Dream Team. Nessuno può escludere che fra sei mesi, fra un anno, fra due anni, le cose cambino, ovviamente. Ma di base Dream Team sarà così. Spero che questo video vi sia rimasto utile per sapere tutte le informazioni che volete sapere su Dream Team. Speriamo che giovedì 21 aprile arrivi presto, così vedremo quello che ci sarà, oltre al campionato già confermato. Se questo video vi è sembrato utile, piacevole, divertente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se volete supportare il canale in maniera ancora più diretta, oltre ad iscrivervi, potete fare i vostri acquisti su Amazon passando per il link di affiliazione che trovate all'inizio della descrizione di questo video. A voi non costa un centesimo di più, ma una piccola parte dell'acquisto che fate va al nostro canale, va al nostro network, va a tutto il tempo, le risorse e le energie che mettiamo per fare tutti questi video. Grazie per l'attenzione e ovviamente al prossimo video. Ciao!